oggi andiamo a preparare i pop corn all'americana come li preparano gli americani allora intanto gli ho messo in questa ciotolina di miscio un po d'acqua a me lo credo sia acqua non ho capito bene chi lo zucchero ecco vediamo lo zucchero un cucchiaino di zucchero mi raccomando vedete come gli è zuccheroso e io pensare ci ho sempre messo il sale nel pop corn e se sbagliavo zucchero e acqua si va a rimestare in senso orario vedete ma guarda che fava io ci mettevo l'olio a volte ci mette i burro a volte comunque il sale e lo zucchero non ce l'avevo messo fa questa pappina diciamo questa pappina zuccherosa il sale vedete ma fino a che mescolare il che sceglie questa ciotola della barbie ah un'altra ciotola più piccina a matrioska ma guardate gli americani sono strani eh per fare la dose se te la dose tu l'ha fatta ma lo so io di che ah vedi in mais un si sa mais perché se non ci sa in mais un vengano poppecorne vedete si va a rimestare con lo zucchero ma guardate ragazzi non sapevo questa cosa io non la sapevo gli americani facessero si poppecorne un lo sapevo ora lo so ora lo so ora lo so si va a pigliare una busta diciamo un sacchettino una busta come si chiama di cartone di carta donna di carta 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 allora vedete si va a rimettere diciamo dentro si va a rimescolare in questa busta e farà da recipiente da tegame si va a chiudere chi gli se ne chiude diciamo con la macchina e la grappettatrice come si chiama la chiappettatrice via due minuti questo c'ho la carta della posta sennò si coppia ogni ossa vai si sei capito questo pacchettino e allora appoggialo sui talo si brucia fava a mia di richiesto il tiro fora grazie come gli fanno loro sui poppecorne non ne fa nessuno americani cioccolata crema vada belli vada cazzo no ora lo rifò anch'io lo rifò anch'io lo rifò lo rifò vada cazzo e mi fagliano anche buoni crocchenti dolci asserpentati cipigli coristerolo diventi di apete a tremila però se non sono buoni vada cazzo grazie